Ciao a tutti! Abbiamo finito di registrare qua al Balance Studio insieme a Tree Siamo soddisfatti del lavoro fatto per il Perosi Project Adesso dobbiamo proseguire un po' le parti tecniche Poi successivamente inizierò a lavorare le altre tracce insieme anche agli altri musicisti che prenderanno parte a questo progetto Questo progetto è nato proprio dopo aver viaggiato un po' e sentito sempre gli echi delle musiche, delle storie riguardo a Lorenzo Perosi che era un compositore classico, sì Ha composto tanta musica sacra, ma non solo Ha composto anche diverse opere molto interessanti e differenti da quello che probabilmente ci si aspettava da lui, da un musicista come lui, da un compositore come lui Quindi ho deciso di reinterpretare alcune delle sue melodie anche qualcosa di mai pubblicato per portarle ancora un po' in giro per il mondo dato che anche lui ha girato tanto insieme alla sua musica Ci sono sicuramente diverse cose che mi piacerebbe farvi scoprire per chi non lo conosce riguardo a questo musicista Ho cercato di fare più ricerche possibile e diverse cose le ho trovate in alcuni libri che magari vi consiglio anche più avanti o qua sotto nei commenti Adesso ritorniamo al lavoro e vi salutiamo Ciao ciao I am exhausted I'm gonna die But it was great Love you